L'idea di questo libro è venuta grazie a tre colloqui con tre uomini a loro modo particolari che sono Pietro Barcellona, Calogero Mannino e Antonio Martino. Tre uomini siciliani eccellenti con tre storie politiche diverse, uno comunista Pietro Barcellona, uno democristiano dannata come Calogero Mannino e uno liberale, vero, autentico come Antonio Martino. Con loro ho parlato di futuro e questo futuro non ha avuto dalle loro parole una definizione concreta, nel senso che tutti e tre mi hanno detto che il futuro è abbastanza oscuro. Perché? Ma perché viviamo un momento di difficoltà ed è proprio questo momento di difficoltà che ho voluto indagare con il libro, il libro che si chiama Babele e questo è già chiaro come messaggio e il sottotitolo è L'Italia tra crisi e terza repubblica. Le due core sono a mio avviso strettamente connesse come ho cercato di dimostrare nel libro e parto proprio dalla disamina della possibilità di chiamare quella che stiamo vivendo un approccio alla terza repubblica. Secondo me, come dico, non siamo passati in realtà dalla prima alla seconda perché alla fine quello che sancisce il passaggio dalla prima alla seconda è in buona sostanza Mani Pulite, Tangentopoli, l'inchiesta che ha messo sotto accusa un'intera classe politica. Ebbene, lì c'è stato effettivamente un cambio che è sancito dalla legge Mattarella, con la quale si passa dal sistema proporzionale al sistema maggioritario in termini elettorali. È sufficiente questo per dire che siamo passati dalla prima alla seconda repubblica, ma credo di dimostrare che non sia sufficiente parlando della storia francese che è quella più vicina a noi e che ha la possibilità di mostrarci come si passa da una repubblica all'altra per cinque volte. Loro sono passati dalla rivoluzione francese alla Costituzione attuale attraverso modificazioni sostanziali della legge fondamentale dello Stato. La nostra non è una Costituzione che è stata cambiata in modo così radicale. Sono stati fatti gli aggiustamenti, certo, ma in realtà non abbiamo una Costituzione così elaborata in termini di modificazioni. Quindi non credo che si possa parlare di seconda repubblica, a meno che, come dice Barcellona e come riporto nel libro, della seconda non si parli come di quei bambini che nascono e muoiono presto, ma che comunque vanno registrati. Ebbene, ho cercato di spiegare anche questo. Non credo che l'evoluzione della situazione politica italiana sia stata sufficiente per dire che siamo in una nuova repubblica, quindi tantomeno che stiamo per entrare in una nuova repubblica. Ma questo poi nel libro è scritto ed è scritto con più evidentemente attenzione e con maggiori particolari.